Buongiorno, grazie ancora per l'invito. Qualche giorno fa si è detto sulla stampa che se violi la legge lo Stato ti bastona. Il problema è quando è lo Stato a violare le proprie stesse leggi, è quando lo Stato a non rispettare i verdetti della Corte Costituzionale. Quando non rispetta un termine, quando non rispetta un vincolo, quando non rispetta lo Stato un limite di legge, quando non rispetta l'esito referendario, cosa succede? L'impressione purtroppo è anche il senso di frustrazione, quello che stiamo assistendo da anni, e che in tanti ambiti, ma per quello che ci riguarda ovviamente rispetto al referendum del 2011, anche in questo caso sembra che il bastone ci cada sulla testa. E' chiaro che tutto questo ovviamente si accentua soprattutto se parliamo di attuazione di esiti referendari, se parliamo di risultati di un referendum abrogativo, a quale hanno partecipato circa 27 milioni di cittadini, e tutto ciò che trova il proprio fondamento nella Costituzione, ampiamente citata molto bene nella relazione prima di Alessandra, e tutto trova fondamento per rimanere solamente in due articoli, in articolo 1 e 75, come direi in senso ampio, nei principi costituzionali. E tra l'altro di rispetto referendario, su sollecitazione dei movimenti, ne ha parlato anche la Corte Costituzionale, con la celebre sentenza del 2012, la 199, quando parla espressamente di vincolo referendario. Insomma, i cittadini che hanno votato nel 2011 e hanno ottenuto il risultato, dovrebbero essere certi che l'esito sia rispettato, ma così non è. E allora cosa fare? Che si fa? Noi, da 13 anni, io mi sento di dirlo con grande tranquillità e certezza, noi da 13 anni viviamo nell'assoluta illegalità rispetto all'attuazione del referendum del 2011. Noi, da 13 anni, subiamo un permanente soppruso giuridico. Abbiamo provato in tutti i modi a difenderci, ma l'ordinamento giuridico sembra non fornire, o non volerci fornire, uno strumento effettivo di tutela. Eppure parliamo di attuazioni di principi costituzionali, riconducibili direttamente alla dimensione partecipativa della democrazia, che trovano il proprio fondamento in particolare negli articoli 1, 2, 3 e 75 della Costituzione. Ora, rispetto a questa illegalità così profonda, è chiaro che monta un forte senso di smarrimento. Rispetto ad azioni legislative prive di un fondamento giuridico lescito, ovvero, diciamo chiaramente, espressione di un comportamento illegale, bisogna attrezzarsi, bisogna attrezzarsi al fine di dimostrare che ciò ha determinato danni ai cittadini, che ha determinato danni ai cittadini di natura economica, che ha determinato danni ai cittadini di natura sociale, di natura esistenziale. Sì, c'è stata una reazione politica, laddove è possibile c'è stata anche una reazione amministrativa, ma verso la discrezionalità, lasciatemi dire, la discrezionalità illegale del legislatore, che fare? In che stato di incertezza, possiamo dire, annega lo Stato di diritto? Lo Stato di diritto è stato umiliato, è stato umiliato da un accanimento istituzionale, terapeutico, e rispetto a questo accanimento terapeutico, istituzionale, normativo, i cittadini sono disarmati, sono stati disarmati dal punto di vista giuridico. L'accesso alla giustizia è sostanzialmente precluso, in quanto come da consolidata giurisprudenza, il ricorso in Corte Costituzionale, che pure è stato fatto nel 2012, che ha ottenuto la sentenza importante, la 199, appunto del vincolo referendario, tutto ciò però da giurisprudenza non è paragonato a strumenti ordinari di difesa dei diritti, proprio perché l'accesso alla Corte ha la sua peculiarità e la sua alea, perché non è detto ovviamente che si arrivi in Corte, perché sapete bene, c'è un collo di bottiglia complesso che è quello che prevede il nostro processo costituzionale. Che fare? E allora proviamo a ragionare in ordine alla possibilità, a questo punto, di accedere alla giustizia europea, di accedere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per dimostrare l'illegalità, le sceità dei comportamenti e delle, soprattutto, omissioni da parte dello Stato. Per portare lo Stato in giudizio, lo Stato italiano in giudizio, e chiedere la sua condanna, ovviamente, questo dobbiamo provare a fare, e quello che cerco di oggi presentare, appunto, e soprattutto pretendere che lo Stato sia condannato a rispettare l'esito referendario. L'obiettivo, dunque, dichiarato, è quello di portare lo Stato dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Per quale motivo? Per denunciare la sua illegalità, che, come proveremo a spiegare, provoca, attraverso un esso di casualità, un danno, un bonus diretto, a diritti protetti dalla stessa Carta Europea dei diritti dell'uomo. Infatti, le privatizzazioni della gestione del servizio idrico integrato, conseguenza diretta, evidentemente, della non attuazione dell'esito referendario, per una serie di motivi che andremo a vedere, hanno limitato il diritto al rispetto della vita privata, il diritto al rispetto della vita familiare protetti dall'articolo 8 della CEDU, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Perché? Perché, come ampiamente dimostrato, con dati e statistiche alla mano, le privatizzazioni diffuse capillari, successive anche, ovviamente, al 2011, hanno portato ad un aumento delle tariffe di erogazione del servizio, hanno provocato conseguenziali disagi ai nuclei familiari, sovente anche con distacco del servizio idrico, con pregiudizio diretto di ordine igienico e sanitario, oltre che fortemente lessivo della dignità umana, della dignità della persona. I cittadini sono sempre più vittime di un aumento dei prezzi, e questo lo dimostreremo, se vogliamo andare in corte, lo dimostreremo, esibendo le bollette aumentate, il cui aumento è conseguenza di un comportamento legislativo dello Stato, fondato, come dicevo prima, sull'illegalità, ovvero sulla violazione del vincolo preferendario. Partiamo da un presupposto che rende apparentemente tutto più, non vale dire difficile, ma complesso. Ora, l'ordinamento della CEDU non riconosce un autonomo diritto all'acqua, ma la giurisprudenza della CEDU, tra l'altro anche la scorsa settimana c'è stata un'estensione del catalogo, con il diritto all'ambiente, con la vicenda della Svizzera, appunto, portata in giudizio per violazione del diritto all'ambiente, e quindi con la giurisprudenza della CEDU rispetto al diritto all'acqua, lo ha garantito tramite una lettura estensiva dell'articolo 8 della Convenzione, come dicevo prima, parla di diritto al rispetto della vita privata e familiare. L'interpretazione estensiva dell'articolo 8 della CEDU consente di ritrovarci il diritto, dunque, ad un ambiente salubre, nonché il diritto all'acqua, anche relazionato, per l'appunto, alle condizioni igienico-sanitarie dei nuclei familiari, soprattutto delle persone più disagiate, dei nuclei più deboli. Il concetto di vita privata ha dunque nella giurisprudenza della Corte una natura aperta, un catalogo aperto, nel quale poter ricondurre il diritto all'acqua. Pertanto, il diritto al rispetto della vita privata e familiare diventa il meccanismo mediante il quale la Corte europea riconosce il diritto all'acqua. Garantire tale diritto è presupposto, secondo la Corte, di una vita dignitosa, soprattutto in relazione alle questioni igienico-sanitarie direttamente riconoscibili alla dignità della persona. In sostanza, l'aumento delle tariffe determinato come dato ormai acquisito dalla privatizzazione e della gestione delle risorse idriche sta determinando e determinerà un bonus, un danno alla vita privata e familiare con conseguenze avverse per la salute e la dignità umana. Proprio muovendo dai precedenti giurisprudenziali della Corte europea che hanno riconosciuto il diritto all'acqua potabile, proprio come diritto al rispetto della vita privata e familiare, è possibile costruire un'azione giudiziaria volta a far emergere come l'acqua venga in rilievo, quale bene economico, il cui aumento tariffario incide sulla vita privata e familiare. Pertanto è necessario garantirne l'accesso a tutti i cittadini mediante delle politiche volte appunto a limitarne il prezzo in quanto bene necessario ed essenziale per la vita privata e familiare. In tal senso, la gestione delle risorse idriche va posto al di fuori delle logiche del mercato del profitto, evitando che margini appunto di profitto di natura privatistica possano aumentare il costo dell'erogazione, aumentino anzi direi il costo dell'erogazione, con un conseguente pregiudizio alla vita privata e familiare. L'azione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo dovrebbe dunque denunziare la violazione in via primaria dell'articolo 8, quale diritto alla vita privata, e in via subordinate eventualmente all'articolo anche 2 della CEDU, quale diritto alla vita. Perché? Perché lo Stato italiano, violando ripetutamente il referendum del 2011, anche attraverso una serie di interventi normativi di rango primario, di rango secondario, ha violato il diritto all'acqua sotto il profilo non trascurabile del costo rispetto agli esiti del 2011. Ricordiamo velocemente, secondo gli ultimissimi dati disponibili, che in Italia il costo dell'acqua si aggira intorno ai 478 euro, questa è la cifra media spessa per la bolletta idrica da una famiglia tipo composta da tre persone nel solo 2023, basandosi su un consumo annuo di 182 metri cubi. Un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, cioè il 2022, e un aumento addirittura del 17,7% se confrontato ai livelli degli ultimi cinque anni, dove la voce che ha maggiormente subito rialzi è proprio quella relativa agli acquedotti, ovvero opere non realizzate da privati che si sono ben guardati dal fare investimenti, tutte cose che noi conosciamo molto bene. Mi sembra evidente che questo metta a dura prova la dignità di una vita privata e familiare. In relazione all'articolo 8 della CEDU, la vita privata di un individuo e della famiglia risulta direttamente e seriamente danneggiata, in particolare da fenomeni che attengono l'aspetto economico all'aumento tariffario in virtù della privatizzazione, della gestione e delogazione della risorsa idrica. Si ravvisa un nesso, e questo è il punto importante, un nesso di causalità tra questi fenomeni e il danno sofferto dalle eventuali ricorrenti, soprattutto nel caso in cui il danno sia causato dallo Stato in prima persona e quindi nell'ipotesi in oggetto, ovvero a causa delle privatizzazioni ex legge comportanti aumenti tariffari. Dimostrato il nesso di casualità tra peggioramento della qualità della vita personale e aumento delle tariffe determinato dalla privatizzazione ex legge che hanno espresso un indirizzo politico avverso rispetto a quello deciso dai cittadini nel 2011, vediamo ora alcuni aspetti velocemente procedurali. Chi può dire la CEDU possono dire la CEDU le persone fisiche e giuridiche che denunciano una violazione dei propri diritti fondamentali come previsto dalla CEDU interpretati appunto dalla giurisprudenza della Corte stessa il diritto all'acqua. Sarebbe preferibile che ad addire la CEDU sia un soggetto che per proprio statuto appunto si faccia portatore di diritti interessi riconducibili al diritto all'acqua all'acqua bene comune a gestione dell'acqua di natura pubblicistica che si sia abbattuto contro la privatizzazione del servizio che soprattutto si sia abbattuto e si continua a battere affinché sia attuato e rispettato l'esito referendario ovvero che le gestioni avvengano attraverso modalità pubblicistiche estranee alla logica del mercato. Dimostrando poi la casualità che il mancato rispetto dell'esito referendario non ha arrestato i processi di privatizzazione che hanno determinato a loro volta un aumento dei costi dell'acqua e un peggioramento della qualità della vita personale e familiare anche con interruzioni del servizio. Certo va pure detto che il principio di carattere generale dell'acedo dice che la corte non può essere radita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interno ma e questo è il punto importante il ricorso alla corte deve essere presentato dice la corte dopo aver esperito una serie di azioni la corte non può essere radita se non si fanno prima le azioni interne ma questa strada io oggi mi sento di escluderla è una strada questa piena di rischi cioè quella di fare i ricorsi interni è una strada piena di rischi tra bocchetti incerta e soprattutto è una strada particolarmente costosa che non mi sento qui oggi di suggerire potrebbe essere più rassicurante ma è sicuramente lunga è sicuramente incerta e soprattutto è molto costosa perché significa fare tutto il percorso interno per poi arrivare con un esito incerto ma soprattutto molto costoso ma io oggi vorrei provare a condividere con voi una strada diversa una strada che potrebbe essere e potrebbe costituire un caso pilota propongo una strada veloce che non richiede di espletare ricorsi giudiziari interni fino al loro definitivo esplitamento ma soprattutto una strada gratuita e diretta di accesso all'ascedo una strada che ha una sua complessità giuridica che ha una sua incertezza giuridica ma sostanzialmente gratuita e comunque come proverò a dimostrare a mio avviso fondata e argomentata è una strada alternativa quella dell'accesso diretto alla Corte che pone il comportamento dello Stato e in generale delle istituzioni pubbliche davanti alle loro responsabilità davanti alle loro diffuse illegalità davanti al fatto di aver ripetutamente negato l'affermazione di diritti direttamente riconoscibili dalla Costituzione l'obiettivo è il seguente ovvero l'inerzia di Parlamento e Governo ma anche l'azione legislativa successiva sempre in contrasto con l'esito referendario a partire dall'agosto del 2011 cito il decreto Berlusconi siano valutate da un giudice terzo e che davanti a tale giudice in Europa si è detto e dimostrato che i cittadini per difendere il risultato del 2011 ed evitare il primato assoluto di mercato concorrenze e privati non hanno avuto e non hanno nel nostro ordinamento alcuno strumento di effettiva difesa dei loro diritti il ricorso alla Corte Costituzionale pur attivato in occasione della 199 del 2012 la sentenza della Corte del 2012 non può essere considerato come dice la stessa giurisprudenza della CEDU strumento di tutela effettiva dei diritti dei cittadini in quanto strumento eventuale la legittima aspettativa a vedere una legge attuativa dell'esito referendario è stata violata da una illegale discrezionalità legislativa in contrasto con il costante orientamento della CEDU avverso l'ultimo decreto legislativo sui servizi pubblici locali non è stata possibile alcuna azione da parte dei cittadini costretti ancora una volta ad accettare passivamente i comportamenti illegali dello Stato e cosa si fa quando lo Stato si comporta illegalmente e il parametro della illegalità è la Costituzione ed i suoi principi e i suoi valori fondativi occorre trovare strumenti di difesa processuali incisivi ed effettivi quindi il mio intento oggi è di andare di proporre di andare a Strasburgo direttamente dimostrando nel ricorso diretto alla Corte Edu che nel nostro ordinamento non esiste una via di ricorso accessibile ed effettiva per far valere il danno economico derivante dall'aumento delle tariffe visto che tutto ciò deriva da leggi e da norme regolamentari sostanzialmente inattaccabili il danno economico deriva dalla non approvazione di una legge da parte del Parlamento in attuazione dell'esito referendario e da legge e regolamenti che hanno illegalmente espresso un indirizzo politico avverso sia nei confronti di legge e regolamenti verso i quali non è possibile esercitare il diritto di difesa giudiziaria sia verso la non approvazione di un testo legislativo inerzia incostituzionale il cittadino il cittadino è risultato e risulta tuttora del tutto inerme colpendo uno dei principi fondativi dello Stato di diritto previsto nella nostra Costituzione il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione per la Corte Edu infatti qualora la violazione della Convenzione Europea sia direttamente collegata all'applicazione di una legge o in via speculare alla non applicazione soltanto il ricorso diretto per il suo annullamento può essere annoverato tra rimedi accessibili ed effettivi in Italia come è noto è negato ai cittadini l'accesso diretto alla Corte Costituzionale a partire da una serie di sentenze e di casi i giudici di Strasburgo hanno affermato a chiare lettere che laddove il ricorrente ritenga che i propri diritti cedu direttamente lesi dall'applicazione di una legge o da altri atti di natura amministrativa non sarà tenuto a promuovere un giudizio a livello nazionale quindi con i passaggi interni al solo fine di sollecitare la proposizione della questione dinanzi alla Corte Costituzionale l'accesso all'unice delle leggi l'ho ripetuto anche Strasburgo non rientra nel novero dei rimedi interni effettivi quindi assenza di rimedi effettivi l'aumento delle tariffe determinato dalla non attuazione dell'esito referendario anzi dall'essere andato allo Stato in direzione opposta ha provocato come si è detto una lesione dell'articolo 8 in termini di qualità della vita privata e familiare la giustizia europea il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo in Strasburgo in via diretta pur con i suoi margini di rischio procedurali io credo che questa comunque sia la strada che oggi io mi sento di rappresentare di presentare di suggerire per reagire alle illegalità diffuse dello Stato che non sono più assolutamente accettabili in uno Stato se vogliamo continuare a dire che è uno Stato di diritto e che viviamo in una democrazia grazie